Sabato 30 gennaio alle ore 18 e 30 conferenza stampa di Domenico di Luccia, candidato a sindaco del comune di Castellabate. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale 636 del digitale terrestre Cilento Channel e sulla pagina Facebook del candidato. Ufficializzeremo insieme la mia candidatura alla carica di sindaco di Castellabate e presenteremo alla comunità il mio programma politico. Ti aspetto!